romeo agresti con noi che ha presenziato la conferenza di max allora io credo romeo che un minuto sia sufficiente a te per raggiungerci guarda tre secondi no aspetta non c'è nulla da dire conferenza senza titoli monblano non c'è niente da dire non c'è niente da dire ma io l'ho ascoltata tre volte perché l'ho trovata era musica per le mie orecchie niente lo spirito è vero abbiamo aspettato fino a un quarto d'ora fa non ci sono oggi direi niente cioè nessun titolo zero titoli zero titoli anche a livello di informazione poche indicazioni ma credo che là ci siamo già più o meno non vedo grossi dubbi dubbi non vedi scusa aspetta non vedi non percepisci grandi dubbi di formazione intendi e a parte cambiato costi c'è neanche quello fammi vedere momblini momblini è sottoscritto l'abbonamento a prime rinnovato il grande momblini trentadue mesi insieme a giacad forse al momento un po più avanti cambiaso hai le percentuali davanti a te no le percentuali lascio a te il tuo grafico è dinamico cioè lo vedi in tempo reale è un borsino è un borsino borsino di devo crearlo devo creare il borsino dinamico qua in live nella costruzione una formazione quindi cambiaso leggermente favorito su costi c'è al momento si poi domani si decide se parte dall'inizio chiesa o se invece va ken quindi teniamo per il momento che in vantaggio vediamo dai che mi sembra vlaovic parte dall'inizio vlaovic quindi è possibile giochino vlaovic ken non mi sento di escluderlo poi ora iniziamo a verificare ancora un po' di più ma c'è poco cioè non è che c'è da inventare che neanche a destra wea ma non sono più panca forse ora ma forse o hai la formazione davanti non posso parlare dei capire tra le linee bombano hai detto c'è aliamo e tutto e poi mi dici forse forse allora dici dici chi ci sarà sicuramente a me piace partire oggi allegri non ci ha dato capire c'è la di cesamo non so niente d'allegri voglio sapere tre cose fisse allora bravo vicino all'inizio questa mi piace cambiato al momento in vantaggio su costi c perché allora bremer sicuro se sceso in sicuro gatti e rugani sicuri blavis sicuro se rabbia e li sicuri locatelli e scusa e rabbio sicuri rabbio sicuro anche in diffida sì ma certo sai qual è la partita perfetta per beccare ragazzi abbiamo abbiamo otto undicesimi eh sì davanti aveva ragione romeo otto undicesimi eh quella eh ragazzi non è che c'è da inventare granché c'è zampini come state ragazzoni ma dov'è zampini io non c'è c'è abifede che c'è dove che sì infilato zampini ma abifede che c'è abbiamo fede ciao massimo ragazzi miei ragazzi miei ero fuori da un collega a un certo punto sto per finire no ma stiamo parlando della formazione. Aspetta arriviamo là accendo quello che sento qui in diretta. Io sento la conferenza stampa in cui un giornalista dice avete appena fatto sono tornati alla nazionale a solo due allenamenti e a solo due allenamenti come la preparate la partita in vista di domenica. Io mi chiedo ma come due allenamenti scopro che stanno facendo sentire la conferenza stampa di Milan Juve. Vado avanti sento tre volte di fila la domanda di Gallo sempre uguale così. Poi saltava la linea a Romeo Juventus se lo lasci mezz'ora così succedono delle cose che io non ti posso raccontare cosa accade qui. Ma io pensavo che scherzaste quando ti hai fatto riferimento. No, è finita qua è finita cinque minuti fa la conferenza su Juventus. Massimo e meno male che non ti sei collegato prima perché era molto peggio. Prima non ho sentito per fortuna. Il signore vuole che prima non avessi sentito. Ora qui scusa Romeo io stavo entrando con la formazione e ridimmela. Ridimmela. No, non è che io non ce l'ho. Io la formazione non ce l'ho. No, tu non hai niente. Tu non hai niente. Otto undicesimi penso che possano essere in Porta Scesni. I tre dietro con Ugani a sinistra. Uè a destra. Tipo sinistra cambiaso. McKennie, Locatelli, Rabiot e davanti magari gioca Ken Convlaovic. Però vediamo. Allora intanto ho visto, vedo che la mascolo scrive Zambini in grato. Ho sentito l'intervento della mascolo che si vantava di aver fatto sentire questa cosa in cui si sentiva prima Milan-Juve. Max, ti posso fare un breve epilogo? Sì, fammi il sunto, Pietro. Ore due, dietro le quinte ci siamo io e Nicole, Luca sparito. Nicole che prova compulsivamente a cedere all'account di Luca per mandare la diretta di Allegri e a un certo punto fa Oh cazzo, troppi accessi, ho bloccato l'utenza. Quindi iniziamo questa diretta io e Nicole facendo un po'. Abbiamo parlato del cavallo di Allegri che corre a Allegri. No, ragazzi, veramente. Poi si è collegato Luca che si è preso in merito di questa conferenza stampa trasmessa finalmente che in realtà era Francesca Mascolo da sotto e poi quello che hai detto tu. Prima Milan, poi Lupe. Allora, lei c'è, grazie Francesca che ci hai fatto rivivere Milan-Juve. In effetti ce ne abbiamo vinta una, ripensiamola le volte, giustamente. E poi, colpevo a Mascolo, la forza di tira della conferenza di oggi. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Sono tornato, scusatemi, vi ho interrotto. Dimmi gli otto undicesimi, Romeo. Dimmi gli otto undicesimi. Ma io ho detti, sono sempre gli stessi. Non è che anche io devo ripetere. Mi stai facendo oggi rimbambire come Montblaro, non credo. No, l'unico dubbio è capire se partirà Ken dall'inizio e non chiesa, cosa che è plausibile che sia così. E cambiaso Kostic, cosa hai detto? Più cambiaso. Ok. Che poi in conferenza lui dice sta molto bene anche Iling, quindi dubbio cambiaso Kostic. Sta meglio, ha detto. Meglio in che senso? Eh, non lo so, ragazzi. Meglio... Allora, dai, mettiamo la probabile formazione assieme definitiva. Mettiamo la probabile, dai. Cesne, Gatti, Bremer e Rugani. Piano, 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 fammi segnare tutto. Cesne, Gatti, Bremer e Rugani. UEA, Meccenni, Locatelli, Rabbiò, Cambiaso. UEA, Meccenni, Locatelli, Rabbiò, Cambiaso. Vlaovic, Ken. Ma hanno già giocato assieme quest'anno, Vlaovic e Ken. Questa è una bella domanda. Non mi posso. Sto sincero, non lo so. Eh, non mi ricordo neanche io. Scusa, no. Romeo, ma perché dici non ci sono titoli? Cioè, perché in effetti non ci sono... Era moscio lui, oppure erano domande normali, non c'è niente da dire. Non era in palla. No, 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 no. Quest'anno non ci sono sorrisi in conferenza stampa. Quindi non ci sono battute, non ci sono... Si risponde alla domanda, nuda pure cruda e fine. Preferisci così o preferisci il clima un po' più vivace? No, no. Io preferisco l'Allegri scansonato, anche perché mi sono divertito molto negli anni delle sue conferenze, ma quest'anno dalla conferenza 1 ha cambiato stile comunicativo, oggettivamente parlando. Non ci sono battute, non ci sono metafore. Si ragiona sulla partita. Lucone, che dici? Ti sei azzettito? No, no, no. Io ho detto tantissime cose prima, insieme a Pietro e a Nicole. Ero arrivato poi quasi a sfociare sul discorso mercato. Poi siete arrivati voi perché volevo... ho visto qual è il loro cavallo in vista di gennaio. Ieri, per esempio, Antonio Barillacce ha sfumato le posizioni dei 4-5 nomi in maniera molto netta, che adesso noi percepiamo un po' come fossero parte di un unico minestrone, no? Vabbè, ieri era anche Douglas Costa Day, per certi versi che mi sembra già sparito giornalisticamente dai radar, però che Frenturam, Samarzic, Sudakov ci ha dato risposte su quei 4-5 profili abbastanza nette e abbastanza diverse l'uno dall'altro. Non ha fatto mailina. Dove non sapeva, ha detto, su questo qua non so nulla. Cioè, per esempio, su Sancio, che non è un centrogampista, su Sancio ha detto, guardate, queste sono informazioni che ho visto che sono state anche riprese dagli importanti media internazionali. E sono arrivati in Italia anche come tali, però io non ho nessuna informazione in possesso, quindi non saprei cosa dire. Però poi non sono arrivato ad approfondire questo tema, tra virgolette, mercato, ma meno male. Nel senso che domani si gioca, se volete, se volete, sì, Sudakov è un trequartista, anche Samarzic a casa mia, nelle vecchie di Citorno trequartista. Poi sono giocatori ancora che se vogliono fare il salto dal calcio ucraino o dal calcio friulano, dovranno poi probabilmente avere una configurazione più chiara e netta, perché col trequartista, vecchia maniera, non gioca più nessuno. Quindi chiediamo poi anche Lumi dopo. A Romeo, però, la notizia del giorno è questa storia di Tognozzi, no, Romeo? Eh, la notizia delle ultime giorni è questa di Tognozzi. E questa di Tognozzi, che potrebbe lasciare la Juventus a ore per diventare il nuovo capo dell'area sport del Granada. È una traccia non vera, ma verissima. E quindi credo che ci siano chance che si definisca questo divorzio in tempi molto rapidi. Ricordiamo che Tognozzi va in scadenza, sì. Tognozzi va in scadenza il 30 giugno 2024. Però, sì, 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 sì. La sensazione è che Tognozzi possa aprire un nuovo capitolo professionale, perché è molto giovane Tognozzi, pur essendo un classe 87, è stato capo scout dello Zenit, del Bayer Leverkusen, della Juve. Per intenderci, per coloro che non lo conoscessero, è colui che è andato a scovare a Uise nella portata a Torino, Sule la portata a Torino, Barrenecia la portata a Torino, Hildiz, Hining, fondamentale nel convincere le famiglie. è uno dei più grandi scouting manager su scala mondiale, come sostengono in tanti. Però potrebbe iniziare una nuova avventura che posso anche comprendere, perché ci sta, magari chiudere un percorso da osservatore, seppur da capo alla Juventus, per mettersi in gioco in un'altra veste. Pietro Salvatore, dobbiamo salutarti. Sei turbato da questo probabilissimo, ormai imminente addio? Sei turbato da questo addio di Tognozzi? Beh, non è una bella notizia. Adesso non so valutare poi che impatto avrà, perché, immagino, arriverà qualcuno a sostituirlo, magari una promozione interna, quindi qualcuno ha lavorato con lui. Non lo so, io devo dire non lo so. Però sicuramente non è una bella notizia. Ecco, è quello che diceva Romeo, no? Alla fine, tanti ragazzi della Next Gen che si stanno inserendo in prima squadra sono frutto del suo lavoro, quindi perderlo non è... Lasciamo allora libero Pietro Salvatore. Pietro, sei stato veramente partecipato in una delle puntate più memorabili, ti ringraziamo. Bellissima, rifacciamo la presta. Uguale, uguale identica. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ma Nicol che sta facendo? È concentratissima, sta scrivendo. Sta studiando. Ma non ci guarda, non ci sente. Nicol, si fa le umbe. Eh, a volte il wifi, non so cosa succede oggi, vi giuro. Ma che sta accadendo, Nicol? Che ti succede? Ogni tanto si blocca per sei secondi e poi ritorna. Non mi hanno mai dato problemi, mai. Eh, non lo so. Vabbè, amen. E quindi Romeo, la Juve ha provato a trattenerlo? Non lo so, devo essere sincero con te, Momly, però la sensazione è che poi, sai, se una persona decide di fare un nuovo percorso... Sì. Sai, tu, ragioniamola anche, adesso in una notizia non ho parlato ovviamente con nessuno, però tu sei alla Juve. Sei, non il braccio destro di Giuntoli perché sei il terzo braccio, se vogliamo. È il contratto in scadenza. Ti arriva una proposta al Granada che è pure una situazione molto particolare di classifica, no? Fatica. Io non conosco onestamente la realtà del Granada, credo che da anni si sia anche staccato dal ramo Pozzo, da quello che ho intuito, però sai, Luca, ci può stare che tu hai lavorato in Russia, quindi poi anche nella Bundesliga, in Serie A, se hai 37 anni, ti ritrovi a fare il capo dell'area sport, con il curriculum che hai, inizi un nuovo percorso, io lo trovo uno step in avanti, a livello individuale, poi ovvio che... Anche a livello di centralità del ruolo. Quello che voglio dirvi io è che un fuoriclasse di questo genere, se fai il percorso che farà, poi può fare il direttore sportivo ovunque, Milan, Inter, Manchester United, Real, cioè, però evidentemente occorre fare questo step per iniziare a camminare, tra virgolette, con le proprie gambe. Però ragazzi, la domanda nostra, al di là del futuro di Tognozzi, cui auguriamo tutto di bocca al lupo, è la Juve, e la Juve lo lascia andare nel senso con serenità, pensando tanto stiamo cambiando parte dello staff tecnico, per riconoscenza per il lavoro fatto, o non può fare altro per lasciarlo andare, non so, vi chiedo pure qual è la reazione. Juve ha già delle idee, si parla di Micheli che era collaboratore. Ma si parla di Micheli in maniera, al momento, immotivata. Perché si parla di Micheli? Micheli non è mai stato uomo giunto lì, uomo dell'Aurentis. Poi, che in questo momento si dice che ci siano delle frizioni legate anche alla scelta di Rudy Garcia, mi dicono, fonte autorevoli. Scelto da Micheli dell'Aurentis? Beh, no. Micheli. Micheli. Quindi, evidentemente, pare che Micheli abbia caldeggiato tanto questa opzione, e quindi, evidentemente, lì in questo momento c'è una sorta di cortocircuito, però non è mai stato Micheli un uomo di Giuntoli. Se mi dite Pompilio, se mi dite Seppanelli che ora è andato al Pisa, Romairone, se mi dite questi nomi, sì. Io, in generale, mi aspetto che qualche figura riconducibile a Giuntoli arrivi, soprattutto a Giugno. Tu che dici, Luca? Non fare solo il conduttore, tu lo sai che sei anche ospite qui. No, io, tra l'altro, adesso devo andare, perché ho... Vabbè, ma questo non c'entra, stiamo parlando. Dimmi, ma cosa vuoi sapere? No, questa è... No, a tuo valere, c'è la Juve, la sceglie o è già pronta? Ma non è sorprendente, secondo me, se non magari nelle tempistiche, nel senso che diciamo ottobre, ottobre, novembre, poi... Però, devo dire, non sono sorpreso. Romeo lo sa, perché spesso le ha di prima mano tante imbeccate, tanti corteggiamenti, tante situazioni, già a livello internazionale, che potevano aver fatto riflettere Tognozzi, c'erano state. West Ham? Nel recente passato. E' chiaro che poi, adesso magari siamo lì a dire, ma Granada, cioè, però, sai, lui sa cosa sta succedendo in quella realtà, chi è l'interlocutore che lo investe del ruolo, quindi quanta fiducia hai, quanta libertà, quanto budget, quanto margine di crescita, quanto modo per far valere quello che senti di essere in un nuovo ruolo, dove dovrai dimostrare tutto, però è evidentemente la situazione giusta. Devo dire anche che, se io avesse voluto rintuzzare o provare a rintuzzare, devi farlo muovendoti d'anticipo. Cioè, se Giuntoli, dico Giuntoli perché ovviamente è l'uomo, the man, avesse preso a braccetto Tognozzi e in questi mesi avesse portato lui come delfino, come uomo di... come spalla, come co-referente per una serie magari di trattative, magari anche di carattere minore, ma sulla prima squadra come... ma no, quella roba lì la sta facendo Manna. Tra l'altro non è chiaro quanto lo faccia Manna per scelta di Giuntoli e quanto lo faccia Manna perché quando Giuntoli arriva è stata inoltrata e Manna aveva già preso in mano la situazione. Però questa cosa, Tognozzi non è stata... la Juve non l'ha fatta, questo passaggio, quindi secondo me non fai neanche... Questo ben tramombli e anche la stanchezza in sé perché Matteo Tognozzi arriva a Juventus nell'estate del 2017. Sì, cambi la mansione in maniera drastica, forse è una riflessione la fa. Lui arriva nell'estate del 2017 alla Juve. Lui viene scelto da il nostro amico qua di Juventibus, Giavier Ribalta, che all'epoca era capo scout della Juve. Scusa, è amico di Juventibus Ribalta? Eh sì, come l'ospite, no? Sì, sì, amico, amico. Io lo rivolgo. Beh, cosa vuoi? Ma cosa c'entra? Io voglio Ribalta e Tognozzi insieme. E quindi... Happy days! Javier, Javier Ribalta, scova Tognozzi perché gliene parlano molto bene, un buon rapporto e tutto. Cosa succede? Che quella stessa estate dell'arrivo di Tognozzi arrivano offerte irrifiutabili al Manchester United per Ribalta. Ribalta va via. Che cosa fa allora Fabio Paratici, perché il talento, riconosce un talento, perché sullo scouting Paratici, ragazzi, potete dire quello che volete, ma uno dei numeri uno al mondo tuttora. Paratici vede subito Tognozzi che aveva 26-27 anni e dice no, tu non stai a fare il V2, ti assumi subito le tue responsabilità perché sei bravo e fai il capo. Così Tognozzi nell'estate del 2017, a 26-27 anni, era già capo scout della Juve, 26-27 anni. Io credo che possa anche subentrare un po' di stanchezza, Luca. Cioè tu dici non c'era un modo? No, è la fine di un percorso, perché come hai detto tu, o vieni promosso a DS, o vieni promosso a DG e a quel punto fai il salto. Ma se tu devi continuare a fare capo scout alla Juve, anche con un nuovo blocco dirigenziale, secondo me alla fine della fiera, se vuoi fare tu lo scatto di S, ci sta che vada via. Io la vedo così. No, certo. Infatti io anche ho detto, alla fine non sono sorpreso, sapevamo o avevamo capito da un po' di tempo che la sorpresa, ovvero la situazione giusta, poteva essere lì dietro l'angolo. Poi, non sono in grado di stare a fare un'analisi su perché è Granada, giusto, sbagliato. Io voglio dire i tifosi perché non è che io ho solamente la possibilità di fare questo di professione e di vedere come lavorano le persone. La Juve sta per perdere un top player, eh? Cioè la Juve non sta per perdere un dirigente, un tassello che poi lo sostituisci così. La Juve sta per perdere un fuoriclasse. Ma è questo che sto dicendo, c'è la Juve che si sta rifacendo e il Granada non è arrivato in Real Madrid a dire tu diventi il nostro elettore sportivo, dici ragazzi, perché hai un ruolo importante in una squadra più piccola. Se tu ci tieni e dici ragazzi, caro Tognozzi, tu sei giovane, anche se esperto, noi stiamo rifacendo lo staff tecnico, la società e dobbiamo tornare a essere i migliori in Italia e tra i migliori in Europa e tu sei dei nostri. Cioè Tognozzi dice no perché sogno il Granada, non lo so. No, però Max, se io ti dico, caro Tognozzi, tu hai la nostra fiducia, sei il nostro capo scout, però alla fine della fiera resti capo scout. Cioè, se quel salto lì che magari vuoi fare, alla Juve non lo puoi fare. Diciamo che Giuntoli non ha messo una fischia su Tognozzi. Non sappiamo se l'abbia messa su Manna, lo spiegavo prima. Quello che sappiamo per certo è che non l'ha messa su Tognozzi. Ma Tognozzi è la scadenza 2024 come molto... Ah, ok, allora mi sa che pian piano qualcuno comincia... Io continuo a pensare... Ma anche per cui vi faccio notare una mossa, che la Juve, intesa come società, quest'estate cosa fa? Giustamente rinnova Manna con un più uno per dargli anche lo status mediatico e per poi riconoscere il lavoro, perché la Juve ha fatto mercato con Manna tutto giugno, poi è arrivato giunto e lì non si è fatto più niente. Non è una battuta, è proprio come è andata la storia. Ma quella mossa lì con Tognozzi viene fatta, ma non solo a Tognozzi, con tutti gli altri, perché scadenza Cherubini, scadenza Braghin nel femminile, scadenza Scaglia nel settore giovanile. Cioè l'unico a cui la Juventus poi ha riconosciuto il più uno, per una serie di motivi, è stato Manna. Quindi sai, Max, tu ti ritrovi che magari adesso arrivo a dirti, Granada ti offre, non lo so, ti offre il triplo, ti offre il doppio, ti dà il ruolo che vuoi, vai a imparare a conoscere un nuovo mondo. Poi Tognozzi è uno che parla 6-7 lingue, cioè è uno che... Io vedo un percorso molto naturale, che si chiude nel 2023, iniziato nel 2017, all'apice. Perché comunque Tognozzi ti lascia un patrimonio tecnico. Eh certo, è abbastante. E poi, sì, sono d'accordo con la chat, io sono anche del parere che alla fine della fiera, giuntogli qualche uomo suo, se lo porterà. Eh, questo è normale! È venuto solo, è venuto solo. Sì, ma non subito, forse. No, non subito. La gente dice, pensa come le sostituzioni in campo, esce uno entro un altro. No, perché poi ci sono tante dinamiche, soprattutto la Juve, però quando prima ho fatto riferimento al fatto che ci sono tanti dirigenti in scadenza, eh, vuol dire che se qualcuno non dovesse rimanere, non dovesse rinnovare, si liberano posti. Anche lo stesso, se non sbaglio, Claudio Chiellini va in scadenza fra un anno. Cioè, sono tutti in scadenza. Anuale, annuale, chiede Claudio Chiellini. Sono tutti in scadenza, ragazzi, tranne manna. Tranne giuntoli. E' allegri. E' allegri. Ragazzi, io devo salutarvi. Ciao Lucone. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti.